Buon pomeriggio a tutti, siamo qui al premio Amadeus con un membro della giuria, il maestro Alberto Nosè. Buongiorno a tutti. Buongiorno maestro, avrei una domanda da fargli, partiamo con com'è stato questo concorso. È sempre un'emozione organizzare un concorso pianistico, siamo fortunatamente giunti alla terza edizione dopo due anni di pausa causati dal Covid e quindi siamo molto contenti di aver ripreso questa bellissima iniziativa qui alla Zise. È una location bellissima, qui la Dogana Veneta, a cui siamo molto legati in realtà. È un posto magnifico che è amato anche da tutti quelli che vengono a visitare il luogo e tutti quelli che partecipano al concorso. Abbiamo avuto anche un incremento di iscrizioni quest'anno, quindi siamo molto contenti che nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi anni e comunque abbiamo notato che i pianisti, il mondo giovane della musica crede ancora anche nella nostra iniziativa culturale e artistica. Molto bene. Com'è cambiato secondo lei il mondo della musica oggi? I concorsi sono ancora molto importanti per i musicisti? Allora, secondo me i concorsi sono sicuramente uno dei modi, uno delle possibilità che un giovane ha innanzitutto per provare un programma in vista magari di altri impegni artistici che possono essere altri concorsi magari più importanti o esami o semplicemente anche valutare una sorta di esperienza dal punto di vista formativo perché comunque i concorsi per la carriera di un giovane musicista sono anche formativi il fatto di mettersi a confronto con altri coetanei musicisti il fatto di esibirsi di fronte a un pubblico sempre eterogeneo non necessariamente fatto da professionisti del settore quindi è uno dei modi sicuramente per anche cercare di sviluppare la propria conoscenza musicale e la propria esperienza all'interno della vita concertistica chiaramente non è l'unico però visto anche l'affluenza di tanti giovani ai concorsi pianistici e anche visto il numero sempre crescente di competizioni musicali quindi questo sta a significare che l'utenza c'è anche di questa forma di promozione culturale Certo, e lei avrebbe un consiglio da dare a tutti i giovani che vogliono intraprendere questa strada in questo percorso artistico? Certo, è una strada molto difficile, è una strada che ha bisogno di tanto sacrificio sia da parte del musicista stesso ma anche da parte dell'insegnante, dei genitori è una vita difficile che coinvolge un po' tutto quello che sta attorno anche al semplice fatto di esibirsi davanti a un pubblico il fatto degli studi musicali, il fatto dell'educazione il fatto di mantenere sempre una certa costanza nello studio il fatto di voler approfondire, di ascoltare gli altri di cercare di ascoltarsi e anche di migliorarsi è un'attività che coinvolge a 360 gradi e con la vita di una persona e quindi coinvolge anche tutti i colori che stanno attorno a chi fa musica una vita di sacrifici che poi viene ripagato che in realtà non sempre viene ripagata perché oltre a tutto questo mix di cose serve anche una buona dose di fortuna la fortuna di sviluppare la propria musicalità nel momento giusto di incontrare a volte anche le persone giuste e di fare anche le scelte giuste perché a volte, come in tutte le carriere, chiamiamole anche lavorative si possono fare anche delle scelte sbagliate o delle scelte che non sono magari proficue in quel particolare momento e a volte molti giovani anche vedo e ho avuto anche esperienza che vogliono molto spesso saltare anche certe tappe che sono necessarie allo sviluppo di una formazione musicale e questo non va bene cioè la crescita dei sentimenti, la crescita della personalità è una cosa che va di pari passo con il tempo certe cose non si possono anticipare sì sì sì, ci vuole pazienza certamente molta pazienza allora, vi faccio l'ultima domanda forse quella un po' più difficile perché questa competizione io ho visto che il bello è proprio il fatto di poter fare spesso concerti perché non è un concorso fine a se stesso ma ogni volta che si esibisce davanti a una giuria c'è comunque un pubblico e insomma turisti, persone che vengono a ascoltare secondo me è una bellissima iniziativa ecco allora le chiedo qual è per lei il rapporto che si crea tra musicista e chi ascolta quindi magari il pubblico che cosa questo è più magari riferito a lei come pianista beh, sicuramente un rapporto di comunicazione ma in cui anche il pubblico diventa parte integrante e coinvolgente anche di tutto l'evento musicale perché non dimentichiamo che ogni concerto non è fatto solo dal pianista che si esibisce ma è da tutto quello che ci sta attorno tutto quello che c'è dietro le quinte quello che c'è davanti a lui l'acustica della sala il pianoforte un particolare momento una particolare emozione in quel momento e anche un certo momento anche della vita all'interno del musicista perché anche noi che suoniamo non siamo sempre gli stessi siamo in continua evoluzione e adesso fortunatamente anche nell'ultimo periodo avendo anche il supporto ormai della tecnologia che ormai è più alla portata diciamo di tutti riusciamo anche a espandere appunto anche il nostro concorso anche attraverso il canale online quindi il pubblico c'è in sala ma sappiamo benissimo che c'è anche oltre a casa oltre da casa esatto con chiunque fosse connesso online quindi potenzialmente tutto il mondo può ecco vedere le esibizioni dei nostri candidati benissimo allora io la lascio però facendole dei complimenti sia lei sia la professoressa Fornari proprio per l'organizzazione del concorso perché da pianista seppur nel mio piccolo non ho mai visto un concorso organizzato così bene ogni studente ha la sua sala per provare c'è questa bellissima sala appunto la dogana dove si esibiscono i ragazzi un'organizzazione dove c'è appunto anche dietro le quinte dove ci sono tanti ragazzi che aiutano ma anche l'online che quindi può essere ripreso e tutti possono vedere in mondo visione quindi insomma le faccio i complimenti perché c'è un grandissimo lavoro dietro grazie noi apprezziamo sempre i complimenti cerchiamo chiaramente con i nostri mezzi di fare il nostro meglio e si sa che si può fare sempre di più in base ai mezzi sia per quanto riguarda la forza lavoro anche logistica sia che mezzi economici chiaramente cerchiamo sempre di adattare cercare di fare il meglio possibile con quello che abbiamo fra le mani è certo grazie mille grazie 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 a tutti grazie a tutti